Parola accompagna poi va profondo ancora Giaccherini che si è inserito bene Giaccherini cerca il volo di destro di ingannare Buffon da Colucci a Caserta che sbaglia il tocco favorisce Krasic molto impreciso Cesena Krasic 4 contro 4 Krasic cerca un barco poi arriva attraversone deviato e palla sul fondo che sfiora la traversa insieme a Pepe che taglia sul primo palo il pallone invece sul secondo messo fuori nessuno riesce ad arrivare poi Motta cerca il tiro di destro deviato la palla ancora lì fuori gioco di Matri fuori gioco di Matri al momento del primo passaggio deviato il pallone gestito da Juventus che l'ha riconquistato con Matri e poi con Del Piero che lo porta avanti Del Piero insiste ancora Del Piero va da solo Del Piero ancora con il taglio di Matri servito sulla corsa grande azione di Del Piero Matri con il destro Alessandro Matri splendido contro Piero della Juventus e quando Del Piero c'è si sente Pepe con il tacco del Piero Pepe clamorosa occasione per la Juventus dentro il pallone per Giaccherini posizione regolare Giaccherini palo che cosa si è mangiato ma cosa ha fatto ma cosa è successo ma non ho mai visto una cosa del genere il pallone è controllato da Pepe uno contro uno di Pepe c'è Matri in profondità ecco lo servito Matri in area di rigore arriva prima di Antognoli non riesce però a toccarla con la punta e a spostare il pallone dalla traiettora di Antognoli ecco lo Krasic dopo la spizzata di Matri dentro ancora per Matri grande controllo di Matri vince un contrasto Matri in area di rigore trova Erseni del Piero poi Matri Alessandro Matri 2-0 doppietta di Matri anche del Piero si è mangiato un gol clamoroso forse dietro o in linea o dietro potrebbe anche essere buona la posizione è proprio al limite al limite al limite con il pallone Giaccherini che gira buono l'inserimento di Parolo va dentro Parolo grande giocato di Parolo salta anche Buffon calcio di rigore è rosso calcio di rigore è rosso per Buffon no giallo Luis Jimenez 2-1 stacco di testa di Bogdani pallone per Giaccherini Motta in ritardo calcio di punizione per il Cesena adesso il primo è infuocato in campo altro giallo Motta rosso arriva Giaccherini fuori per Colucci Buffon in calcio d'angolo pericolosissima la conclusione di Giuseppe Colucci colpo di testa di Jimenez servito dal tacco di Giaccherini Jimenez Buffon Giaccherini va giù Bogdani se la mangia non hanno scenerato stasera quelli del Cesena un altro gol divorato con sospetto contatto di Giaccherini parolo Bogdani Malonga proprio a destra deviato Buffon con una mano in calcio d'angolo almeno tre parate decisive di Buffon stasera Rosina al centro Malonga non arriva poi Marco Paolo 2-2 batterà proprio Pepe che non sta benissimo palla tagliata sul secondo palo Antonioli la trova sulla linea grazie